Per il PDL la riforma del mercato del lavoro è la vera e più importante liberalizzazione ed è per questo che noi sosterremo tutte quelle misure che potranno dare speranza ai giovani, ai disoccupati, ai più deboli. Ed è questo un modo serio per aiutare chi è in difficoltà e non difendere privilegi che ormai sono anacronistici.